Sta arrivando, è un po' timida, intanto chiamiamo una che timida non penso sia, Lilli Celletti, quadrilatero. Dove sei Lilli? Non è timida. Lilli ti sei portata l'accompagnatore? Come si chiama? Topolino, c'è che scarpe che c'ha, c'ha le scarpe da corsa. Andiamo avanti con Caterina e Carli, Bompani. Allora andiamo Giuliano, non c'è? Lilli. E poi Marco fai qualche foto, l'hai già fatta? Non sei un po' troppo lontano? E poi Chiara Bigoni, Bompani. Vieni più vicino. Guardate la Chiara come viaggia, guardate la Chiara come viaggia. E con Chiara, il sorriso di Chiara è il termine della premiazione dei primi passi, mini primi passi. Allora potete trovare le foto, forse le foto, vedremo, il filmato sul sito della Salkus, www.salkus.it. Terminata la categoria primi passi, attenzione ragazzi, facciamo scendere. Vieni Daniela. Ecco, attenzione. Me lo facciamo dire a lei come si chiama? Me lo dici, come ti chiami? Asia. Bene, allora abbiamo premiato anche Asia. E si sono sbagliati probabilmente con la classifica. Allora andiamo con la categoria, ecco, Wazin, che è stato messo ancora in questa categoria, era stato messo anche nell'altra. Yassin e Wazin. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Cagnum. Vincenzo Messina viene da 100, dico bene, Vincenzo? Vive di 100, oh, per l'amor di Dio, non confondiamo il pane con la polenta, eh. Allora, terzo, Marco Travasoni, Corri Revello. La Porto Maggiore. E poi Lorenzo Falinelli, che c'è sempre, Lorenzino, dove sei Lorenzo? Eccolo qua. Che abita a Comacchio, Lorenzo, vero? No. Allora, cosa sa? Per l'amor di Dio, allora mi sbaglio sempre, mi sbaglio sempre. Allora, e questa è la categoria B? Ecco, facciamo scendere, non solo quattro. Potete andare, ragazzi, grazie, vedete, c'è il prossimo Piedro Rocco. Prima, e qui si fa sul serio, qui si corre forte, Greta Dall'Alivere, Sarkus. Che ormai quel chilometrino ai rotti gli sta un po' stretto, eh, Greta? O troppo corto, non si suda neanche. Seconda, Chiara, Meneghini, Sarkus. Faccio io la prova. Faccio io, tengo gli uomini larghi, non si sa mai. Terza, invece, Denise Massimi, Bompani, da Tresigallo, Denise, vero? Oh, bene. Denise Massimi, domenica Copparo, potresti essere vicina, quindi. Quarta, Beatrice Serra, anche lei, Bompani, invece, viene da provincia di Bologna, Beatrice. Adesso facciamo dire il paese esatto, forse Bologna proprio. Bologna, Beatrice. Granarolo. E dopo Beatrice, quinta, Jessica Baruffa, Arginhe Berra. Vai, Jessica, dai, 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 che tardi. E poi Gloria Bertelli, sesta, della Bompani. Adesso piano piano vi spingono giù, non ci stiamo più, eh. Ecco, sono più grandi, ma l'applauso vi piace anche loro. Eh, sì. Allora, grazie anche alla categoria D, ci vediamo l'anno prossimo, non ci rimane per la mini, che lei cos'è fatto? Hai dato il colore in casa? Gloria, ieri? Prego, grazie. Anche voi. Ma sta molto stretta, l'anno prossimo sarà lievi. Il gruppo Bompani, da San Giovanni, Luca Pazzi, Migliorino. Bompani Group, Migliorino. Vai, Luca. Secondo, Lenzio Fabri, Salcus. State lontani, voi siete troppo pesanti. Terzo, invece, Ali Adrauli, New Star. Eh, già qua. Quarto. Allora, c'è un altro Adrauli, vero? E' tuo fratello? Che si chiama perché c'è il nome? Farrucca. Farrucca Adrauli, anche lui è salito di qua, va bene, è lo stesso. Quinto Andrea Massarenti. Eh, quadrilatero. Qualcuno è da quadrilatero? Qualcuno è da, vieni, Daniele? Allora, come premiazione era prevista solamente per i primi cinque, adesso vediamo se riusciamo eventualmente, Daniele, se riusciamo, posso chiamarli? Sì, tutti? Sì, sì. Sì, sì. Sì, va bene. Andiamo avanti con gli altri, ci stiamo, altrimenti concediamo i primi cinque, grazie ragazzi, se non ci stiamo tutti. Il reno 9 premiamo a tutta la... Quindi Luciano, il fratello abbiamo già premiato e dopo Luciano abbiamo Simone, Simone non riesco a leggere, chiedo aiuto, Attana, Attana, New Star, non è facile, Simone Attana, quando è scritto un po' così si fa fatica, Simone Attana, New Star e poi i franciosi Francesco Piffanelli, Argine Berra che è ottavo e nono chiude la categoria Marco Trevisi, vieni Marco, del gruppo Pompani, un attimo, abbiamo premiato tutti e nove i concorrenti della categoria, e potete andare ragazzi. Allora, terminata la mini, adesso andiamo con i più grandicelli, abbiamo quattro categorie, maschile, allora facciamo premiare la femminile al vicesigno, ci dispiace Mattia, scusaci, è colpa sua. Sì, ma prendi la cantina, è stato un pochettino più... 58 iscritti, Ponteggi Ferrara che cammina 33, Salcus 25, Salcus 25, Terrariola 23, Doro 21, Artioli, vieni, Centese 20, Doro, Centese, Invicta 19, Invicta 19, Corre Rebello 16, adesso li congediamo, grazie, Corre Rebello 16, Corre Rebello 16, Corre Rebello 16, Corre Rebello 16, Corre Rebello 21, Corre Rebello 16,lide Amiche Il Antimono 18, 1945, Andrea Rendini, Andrea Bertelli e questi sono gli allievi, purtroppo è una categoria sempre piuttosto carente, eccoci qua, allora grazie agli allievi. Allora Marica Longo, intanto i fiori, Marica, offerti dalla fiorista Neva di Migliarino e poi il premio è un po' più impegnativo da portare via, ecco dobbiamo vedere, se qualcuno fosse interessato eventualmente loro non riuscissero a portarle a casa, qualcuno può contattare eventualmente Marica o Rudy poi. Allora, vado, Marica, chiamiamo le prime...